La procura di Messina ha avviato un'inchiesta sulle minacce inviate con una lettera al procuratore aggiunto di Catania, Ignazio Fonzo, per la sua attività di magistrato anti-abusivismo svolta da Grigento. La missiva è stata ricevuta dal pubblico ministero il mese scorso. Nella lettera si accusa Fonzo di essere cattivo e spregevole, di avere fatto piangere tante famiglie con le demolizioni che sarebbero servite soltanto a fargli fare carriera in magistratura. Infine il mittente auspica che il Padre Eterno lo ripaghi facendo soffrire le pene dell'inferno a lui e alla sua famiglia. Il vice procuratore di Grigento ai tempi di Renato di Natale nel 2015 aveva preso in mano il dossier scottante delle demolizioni che i comuni, soprattutto quelli della fascia costiera e il comune capoluogo, non avevano eseguito per ripristinare la legalità. La prima lettera della lunga battaglia per abbattimento degli edifici abusivi nella Valle dei Templi fu inviata all'allora neoeletto sindaco di Grigento, Calogero Firetto. Era stato proprio l'aggiunto Ignazio Fonzo a dare sostanzialmente un ultimatum all'amministrazione per procedere alle demolizioni disposte dai magistrati. Si rimane stupefatti in ordine al diniego di competenze che questi uffici disattendono, nonostante i precisi obblighi provenienti dalle leggi vigenti, aveva scritto la procura in un documento indirizzato al comune e alla subintendenza di Grigento, all'ente parco archeologico della Valle dei Templi e ai rispettivi uffici tecnici. Gli abbattimenti dei manufatti illegali cui fa riferimento sono stati disposti con sentenza irrevocabile. In assenza di precise circostanziate e dettagliate risposte principalmente esecutive alle richieste provenienti dall'autorità giudiziaria, aveva proseguito Fonzo, si dovrà procedere ai sensi per abuso d'ufficio o omissioni di atti d'ufficio a carico dei responsabili degli uffici tecnici e degli enti competenti che, con perdurante ostinato ritardo, impediscono il ripristino della legalità nella zona del parco archeologico della Valle dei Templi. Poi era toccato al comune di Ricata. Il sindaco, oggi ex Angelo Cambiano, era stato invitato dalla procura a sottoscrivere un protocollo di intesa e procedere alle demolizioni di immobili abusivi nella fascia dei 150 metri dalla battigia. Il primo atto per attivare le ruspe, che dal maggio del 2016 hanno già demolito una settantina di villini abusivi e si apprestano ancora ad abbatterne altri 150.